I sindaci lo chiedevano da tempo per i cittadini residenti nella zona sud di Padova che fanno riferimento all'ospedale di schiavonia tornato Covid Hospital. La priorità in tutte le ULS venete per i cittadini residenti nel territorio dell'US e Uganea è arrivata dopo l'attacco hacker e server che da due settimane sta impegnando i tecnici dell'azienda. Per questo il direttore generale della sanità veneta Luciano Flor ha inviato una comunicazione ai responsabili delle US regionali dell'azienda Università Ospedale di Padova e di Verona dello Iov affinché i cittadini residenti nell'US 6 siano garantite le prestazioni al pari dei propri residenti nel rispetto delle classi e dei tempi di attesa previsti dal piano regionale per il governo delle liste d'attesa.